salve regà sapete che c'è che mi è da rite perché ho fatto il video ho dato il commento sul fatto dei sorteggi che insomma sono stati oggi e no veramente guarda è troppo forte perché io è vero che so uno che provoca è vero questo è vero me lo riconosco lo so che a volte do le puncicate però ci sanno stupidi che so stupidi e nascono stupidi e moriranno stupidi che non afferrano i concetti non capiscono un cazzo allora che tu allora io metto faccio sto commento e dico la juve passerà la grande perché è vero la juve passerà la grande allora quando ho detto l'altro giorno ho fatto il video del manchester come ho detto lo ripeto e contro il totale ha perso 3 a 0 ho detto è stata una grande è una gran bella partita molti sul video mi hanno detto che il manchester è una squadra di pippe che non vale un cazzo ma che è il manchester ma che è tutti ci stanno i commenti tutti mi hanno scritto diciamo ma il manchester adesso che non abbiamo il mercato il manchester il manchester l'hanno fatto diventare al madrid è proprio vero ma non c'è veramente non avete obiettività nelle cose è proprio una massa dei deficienti il manchester l'avete fatto diventare al madrid o barcelona insomma una squadra molto straditolata anche se il manchester è una squadra titolata però l'altro giorno che ha perso perché loro vanno a momenti a emozioni al movivano in quel momento se la squadra è così è una pippa se la squadra così è forte allora siccome l'abbiamo beccata noi il manchester allora dico ah il manchester è forte io mi gratto io me questo è un gufo non sei della juve sempre le solite cagate scrivete sempre le solite cagate perché quello sapete scrivere e vi dico una cosa finché in un video ci saranno più like su che giù significa che sto d'accordo con me perciò tu rendete conto finché tu troverai 200 like positivi e 100 negativi c'ho ragione perché la gente mi ha ragione significa il video è piaciuto e quello che dico piace solo a te non piace perché sei deficiente perché metti negativo a prescindere ha capito stupido stupido non metti a prescindere perché sei uno stupido ok perciò la gente capisce molte persone capisca una volta io faccio dei video come ho detto sono do le puncicate però bisogna anche capirli video se tu non capisci un cazzo che cazzo ci viene a fa su sto cazzo del canale che cazzo ci viene a fa veni pensuta e distronzate ma che cazzo ci viene a fa questa è l'ultima volta che te segui e poi li sta qua li sta l'altra volta qua a schiavi minchiate te piace sei masochista se te piace perché proprio te piace sei diventato pure richione perché te interesso e questo mi segui anche se non te piace però te piace siete che trovi un qualcosa verso di me è dillo è dillo ricchione è dillo ricchione è un ricchione dillo allora io capisco che a volte non può piacere il mio modo di esprimere le cose o magari però io so così se non te piaccio non c'è venire io su canali dell'altri vado a vedere anche se magari non la penso come tizio o come caio nel video che fanno però non vado lì sotto a commentare a rompergli il cazzo a distronzate come fate voi me ne frega un cazzo o se no non ci vado più su quel canale se vedo che quel canale non è non fa genio io ne vedo parecchi di youtube insomma ogni tanto metto lì la sera soprattutto la sera sul tardi sul tardi metto lì mi faccio magari un'oretta l'ora e mezza e vado a vedere soprattutto quando sono le partite a serie a che è finita insomma me vedo tizio vedo caio insomma me li vedo però io non è che vado a commentare e vado a dire non capisci un cazzo non sei qui non me ne frega un cazzo cioè sono dei momenti che non la penso come quello che è poi ci stanno dei momenti che anche se quel tizio mi sta antipatico a differenza oltre però dice una cosa giusta gli vado a favore io non so prevenuto come voi capito te state cazzo perché se quel tizio anche se a volte più oltre dice minchiate però magari un video lo fa e dico beh sto giro insomma non è perché lui a prescindere gli devo dare il pollice in giù magari gli devo dire ha detto una cosa giusta capito ci stanno a volte dei youtuber che magari non gradisco però a volte escono con delle cose che dicono cose giuste invece voi a prescindere ma non sono come pure con l'arte mettete il pollice giù scrivete minchiate perché siete prevenuti perché siete dei bimbi minchia di merda proprio non valete un cazzo proprio non valete un cazzo e quando tanti mi scrivono ma io non sei ripetitivo non ti seguo più ma è stufato ciao ciao dal canale e poi ristai qua l'altra volta magari sotto un altro nome che deficienti ma sei proprio un deficiente se tu sei un deficiente ma un deficiente cronico perciò allora il fatto di oggi quando ho detto che la juve passa alla grande perché abbiamo un girone dai parlavamo se chiaro per me un girone è molto facile poi l'avete detto voi che il manchester è una pippa non l'ho detto io però io ho riportato quello sul video che ho detto l'altro giorno e sotto ci ho trovato i commenti il manchester 3 a 0 un bale in cazzo mo che l'hiamo beccato oggi oggi lo speravo da beccare il manchester perché non lo so mi formicolava sta cosa dico so convinto dentro di me pensavo dico ci capita il manchester ma non lo so è una cosa pac ho detto beh è capitato proprio il ciccio col fatto quel video che ho fatto l'altro giorno dico porca miseria voglio vedremo che cazzo dicono e mo diranno soprattutto capirai c'è un girone minchia duro ferreo capirai il manchester magari quelli che hanno detto l'altro giorno che manchester che ha preso tre pippi eh d'artotterham che se lo sono usciti a cazzo è una merda di squadra il manchester non vale un cazzo mo è diventata una squadra fortissima perché l'avevo beccata non dare subito un risultato scontato perché tocca giocarle le partite ma se è una pippa scusa l'ha detto te l'avete detto in ventimila l'avete detto che è una pippa sta squadra mo è diventata una squadra una squadra della stratosferica dei marziani ecco è questo che la gente non è lineare nelle cose dicono un sacco di fregnacci dite un sacco di fregnacci andate a leggere i commenti del video che ho fatto prima sui sorteggi vedete ascoltate il video e poi guardate i commenti proprio commenti da scemoni a volte perché tu non capisci l'ironia non capisci la cosa io ho detto proprio l'ho fatto apposta l'ho detto il girone secondo me si passa tranquillamente perché c'è stata la squadra quella della Svizzera che insomma non sa chi cazzo la squadra è ecco non ci può mettere la squadra Valencia si è una buona squadra ma alla fine la Juve c'ha una potenzialità dei giocatori che passa l'unico è il Manchester che ci potrebbe da un po' più di filo di torce ma visto che secondo voi per me no ma secondo voi è una pippa sta squadra l'avete considerata una squadra del merda e visto che allora l'abbiamo beccata e per molti di voi non è più una squadra del merda ma è diventata forte il Manchester ma siete così siete così dovevi dirlo prima che era forte il Manchester quando ha preso tre pippi dal Tottenham ha capito? Stupido stupido no dopo mo che l'abbiamo pizzicata che tanti ho visti i commenti ma questo è un gufo questo qui e poi tocca giocare le partite per il Manchester che sei matto amo che sei matto il Manchester è una squadra fortissima vabbè ragazzi questa era solamente per fare una puntualizzazione sulle minchiate che scrivono un sacco di personaggi insomma un sacco di stupidi solo per puntualizzare però ricordatevi una cosa finché ci saranno più persone che metteranno like positivi e negativi i video saranno sempre a favore mio quando ci saranno i like che sono più negativi allora non saranno più a favore mio saranno a favore vostro avrò sbagliato e quando avrò sempre più like negativi chiuderò il canale ve lo giuro chiuderò il canale se troverò 200 like positivi e 300 negativi chiuderò il canale parola d'onore ciao e andare a dormire e non fare più stupidi